e far vedere i California Dream Man e vedere i guaguli amarili come a te guarda che lo fanno a passare così no ci vediamo magari ci vediamo e ora ragazzi adesso se vi va è il momento di testare la vostra vera molestia e ora questo è un gioco che si sta studiando a posto per una terra per incentivare e finire a saltare tutti i quanti qui che si andai in scuola che ha fatto ginnastica con classi mister dopo l'età di sviluppo ovviamente e sa benissimo che quando che tose salta soprattutto se si è oltre una terza o due di secolo c'è sempre un bel vedere per tutti quindi ragazzi bisogna incentivare sta roba perchè no offriare solidarietà maschile vedremo anche all'istante e ora è il gioco che andiamo ad andare a fare adesso è un gioco molesto ma non troppo perchè non si tratta delle spogliasse eccetera però se qualcuno mi vuole fare ci sono nessuno che mi interessa soprattutto se si parla sempre di tose è vero o no e ora il gioco è fatto così siccome la canzone che andiamo a fare è una canzone a saltare bisogna fare ciarsi tutti se stai per terra come quando che si va a cagare sulla turca che tu presenti? chi che non si senta paga da bere e ora 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 con te attentamente il maestro Suca che fa uno Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.